E stiamo cavalcando un maiale, achievement de lai E per chi non avesse mai visto le mie miniere, eccole qua, questa è tutta la mia miniera Vediamo di tornare sopra così, ok Vorrei provare anche a volare nel nether che non ho mai fatto Che bello volare così vicino alle fonti di lava Prendere l'uovo di drago che purtroppo non ce l'ho E con un colpo un pollo, 9 quale di danno in un singolo colpo Vediamo se ce la facciamo Vieni qua zombie, ti do un diamante O il gioco è intelligente e non ce lo fa fare Ciao a tutti ragazzi, io sono Suri, benvenuti nel 160esimo episodio della SuriCraft Nello scorso episodio che è stato in live abbiamo fatto la quinta cifra del nostro display Che è esattamente sulla mappa, vediamo se riusciamo a coglierlo Dovrebbe essere qui, eccolo qua Questo è vecchio, diciamo, deve ancora essere aggiornato Quindi prendiamo questa cartina qua e andiamo alla mappa Così la aggiorniamo Inoltre ci sono altri punti che dobbiamo aggiornare e lo faremo oggi Perché in questo episodio qua ci sarà sia il download della mappa Quindi l'ho trovato in descrizione, il download aggiornato alla fine di questo episodio E inoltre in questo episodio qua voglio fare gli achievement Dato che gli achievement andranno a svanire e ci saranno gli advancement qua Questo episodio lo voglio dedicare un po' a finire tutto ciò che ci manca In modo da averlo finito completamente, questo quadro qua diciamo che si va a creare Ed essere pronti appena verrà rilasciata la 1.12 a iniziare con gli advancement Questi qua sono gli obiettivi di questo episodio Inoltre voglio anche sistemare alcune cose che abbiamo lasciato incomplete Diciamo se riesco a sistemarle in questo episodio qua Appunto perché verrà rilasciato il download della mappa Allora intanto prendo questa mappa e anche questa E anche questa qua Dov'è che è? Ok questa E perché ci sono le... Ok ho rotto un quadro mi sa Sì ok lo rimetto così Ho le mappe in mano Vado ad aggiornarle perché altre cose non dovrebbero esserci Perfetto quindi vado ad aggiornare queste mappe intanto E poi iniziamo a vedere sia un po' i nostri achievement che le statistiche Ed è un po' che non le guardo E voglio guardarle insieme a voi per vedere cosa abbiamo fatto in questi 160 episodio di questa serie qua Quindi adesso vado ad aggiornare la prima mappa che è da questa parte qua E poi man mano aggiorno anche tutte le altre Ci sentiamo quindi tra poco e poi iniziamo con il completamento di tutti gli achievement A tra poco Ok reccomi con le mappe aggiornate che andiamo a rinserire Ecco qua la nostra zona dei cavalli La corsa a cavalli sembra un fagiolo quasi Ok e qua si dovrebbe essere aggiornata la farm di squid che è lì E qua ho aggiornato anche il display eccolo qua Che adesso è più largo e si vede inoltre anche la discesa per andare alla farm con i vindicasor Qua c'è il nostro beacon che è ancora lì Dobbiamo toglierlo E probabilmente lo farò anche qua Lo toglierò e lo metterò esattamente in questo punto qua dove sta sempre E penso che questa mappa sia già aggiornata Tutte le cose che ho fatto dovrei averle messe Forse c'è una cosa che non ho aggiornato Il faro che è qua potrebbe essere Vediamo di prendere queste due mappe Vado a vedere se anche la zona del faro è aggiornata Oppure no Una cosa comoda è mettere la mappa nella seconda mano Così non dovete abbassarvi ogni volta per guardarla Così posso tenere anche due mappe nelle mani E non avendo la singola mappa posso stare con lo sguardo dritto E vedere lo stesso invece di doverlo abbassare ogni volta per guardarlo Quindi così è più facile Posso anche volare e andare a vedere Dov'è questa zona qua Dovremmo uscire Vediamo se si completa il faro Ok non è in questa e nell'altra Eccolo qua perfetto C'è anche il faro adesso vedete che c'è un puntino rosso esattamente qua sotto di me adesso E abbiamo aggiornato anche questa mappa Quindi perfetto torno dentro a mettere queste due mappe qua Ed iniziamo con gli achievement che ci mancano Perfetto adesso si vede anche il faro e anche un pezzo di isola che prosegue Perché questa parte non l'ho ancora aggiornata In realtà volevo non aggiornarla mai perché volevo vedere sotto il porto Ma vabbè c'è questa striscia qua dell'isola degli iscritti che rimarrà lì Quindi possiamo iniziare con uno degli obiettivi di questo episodio Cioè guardare un po' gli achievement Allora cosa abbiamo fatto? Si parte tutto da qua Taking inventory Cioè premere il tasto E Getting wood fatto Sono le linee verdi Quelle che non abbiamo ancora fatto Dobbiamo mangiare una overpowered apple Cioè la notch apple Che non si può più craftare Quindi dovremmo trovarla Quindi questo obiettivo mi sembra un po' non fattibile Perché dovremmo andare nei dungeon A cercare una powered Una notch apple E che magari ci vado Ma non so se ci andrò adesso Vediamo quelli più fattibili velocemente Allora fly a pig of a cliff possiamo farlo benissimo Allora prendiamo una sella Dovrei averle anche nella nostra farm di pesca qua sotto Vediamo un po' Devo ancora modificare la farm perché così non funziona E devo rifarlo uguale come ho fatto nella red craft O come ho fatto anche il tutorial Prendiamoci una sella E mi serve anche una canna da pesca se non sbaglio Vediamo un po' di prendersene una casuale Ok forse ce ne sono qua sopra Di canna da pesca migliori Sì ok Se riesco a salire Ok Andiamo a metterci sopra la canna da pesca Una carota E prendere il maiale E portarlo su una collina abbastanza alta E buttarci giù con questo Diciamo che sono molto interessanti gli obiettivi Però non li ho mai fatti E volevo cogliere l'occasione Prima che svaniscano Diciamo che venga l'aggiornamento Per poterli completare tutti O quelli che riesco Come funziona qua Come faccio a mettere la canna da pesca Ok Come si fa? Non mi ricordo più Si faceva così Forse deve essere non rotta E mi sa Non deve essere usurata Vado a farne una nuova allora Di canna da pesca Questa la butto anche Non mi interessa Tanto ne ho veramente tantissime Di canna da pesca Anche con manding così Allora vediamo di prendere tre stringhe Ok Un, due, tre E due stick Ce li ho già nell'inventario Anzi al contrario Me lo scordo sempre Così Perfetto E adesso dovrei riuscire a metterci Questo Perfetto Ok Keratona stick Ok Adesso andiamo a prendere Il nostro maiale E vediamo quale collina Utilizzare per fare questo obiettivo Se riesco Lo porto quasi là sopra E poi Cado giù da qualche parte Se no la sopra potrei farlo Si sta facendo anche notte Quindi vediamo di prendere Un cavallo Cioè un cavallo Un maiale In questo modo Ok mi segue Ah mi seguono tutti No non voglio che mi seguono tutti Ok Devo riuscire a uscire Togliere la carota Ok Guardate appena la prendo in mano Va quel pezzo in avanti Poi si ferma Ok Quindi ho cancellato Perfetto Ce l'abbiamo fatta E stiamo cavalcando Un maiale Ok Perfetto Adesso dobbiamo cercare Una collinetta Sto andando in questa direzione qua E vediamo se riusciamo a salire Su queste scale qua Prima che faccia notte Altrimenti lo lascio qua Vado a dormire E poi torno Vediamo se sale Si perfetto Ok Un blocco lo sale Perfettamente E andiamo su da qualche parte Qua dovrei già prendere danno Vediamo un po' Se prendo danno Ok Ok Obiettivo fatto Possiamo anche riportarlo nel recinto Oppure vediamo se riusciamo a lasciarlo qua Da qualche parte Ok Mi posiziono qua E lo lascio in questo punto Ok Stai lì maialino Ok Uno degli obiettivi è fatto Adesso vado a dormire Vediamo quali altri obiettivi ci sono Anzi me lo guardo subito Prima di dormire Che obiettivi possiamo fare Nell'immediato Allora Achievement Perfetto Dov'è Quello del maiale Fatto questo qua Ok Questo è già fatto Ripopulation Possiamo fare una torta Oppure Darno it into bread Non l'abbiamo ancora fatto Non l'abbiamo ancora fatto del pane Ma probabilmente l'abbiamo anche fatto Ma si annullano gli achievement E mi tocca prendere della wheat In questo modo Pane Fatto Ok Perfetto È stato più facile del previsto Sento uno zombie Intanto Non so dove sia È sopra Ok Dove sei zombie Dov'è lo zombie Lo sentivo Allora è sotto Vabbè Stiamo lì sotto Un attimo A vedere altri obiettivi Che possiamo fare Qua dentro Senza dover uscire Sbaglio sempre a cliccare Ok La torta possiamo farla Sì perfetto Allora Smelta Iron ingot Ah ok Già preso Pensavo Come non ho mai smeltato E poi Catch and cook a fish Ok Non abbiamo mai cotto Del pesce Strano Anche questo qua Non mi sembra tanto normale Infatti abbiamo dei pesci cotti qua Allora Mettiamo un pesce a cuocere E vediamo altre cose Ok Questo fatto Acquire diamonds Ok dobbiamo prendere un diamante Con un tool di ferro Ok ok E poi dobbiamo andare per un chilometro Da dove ho iniziato Quindi in continuo Ma è possibile fare Un loop infinito Circolare Ma non so Adesso proverò Comunque il pesce sta cuocendo Cos'è che volevo vedere Un'altra cosa Ah Degli statistic Vediamo se abbiamo già percorso Qualche blocco con il minecart Boat Minecart Eccolo qua Abbiamo fatto 306 chilometri In totale E qua ci dice di farne uno Se non sbaglio Dov'è che è Eccolo qua Un chilometro Dove hai iniziato Ok perché non l'abbiamo fatti Consecutivi Quindi perfetto Allora Adesso prendo anche le rotaie Che dovrei averne Veramente A sufficienza No Come non detto Quindi mi devo fare Altre rotaie Inoltre sento lo zombie Che non capisco Dov'è questo zombie qua Lo sento veramente Molto vicino Come se fosse tipo Qua dietro Vediamo un po' Se c'è qua dietro Da qualche parte Riusciamo a vederlo No Non mi sembra Qua dietro Vabbè Allora Prendiamo il pesce Che dovrebbe essere già cotto Ok Delicious fish Fatto anche questo Rimettiamolo qua Tanto zombie è sempre più alto Di volume Vediamo un po' Da questa parte Eccolo qua Zombie Ecco perché sentivo così Alto il tuo volume Perfetto Mettiamo un po' di torce qua Che era carente Ok Mettiamo neanche una qua Perfetto Possiamo tornare da questa parte Rimettiamo i blocchi Così Quindi cosa abbiamo fatto Di nuovo Delicious fish Fatto Dobbiamo fare Allora Il noce apple Non possiamo farlo Perché non ce l'abbiamo E non si può più craftare Fare una torta With sugar milk and eggs Ok Perfetto Prendiamo dei secchi Che dovrei avere Da qualche parte Forse qui Ecco qua Due secchi Andiamo dalle mucche Prendiamo del latte E mi guardo la recipe Per fare la torta Perché non me la ricordo Sinceramente E facciamo la torta subito Ok Ho trovato la recipe In realtà ce ne servono Tre di secchi di latte Però voglio fare una cosa Voglio vedere se Mentre stiamo in volo Riesco a raccogliere Il latte Dalle mucche Ok Andiamo un po' in alto Da questa parte E poi torniamo giù E vediamo se riesco A cliccare con il destro Sulle mucche Mentre sono in volo Per prendere il secchio Ok No Mi sono schiantato Non ho neanche preso il latte Riproviamo Ok Sta tornando un po' più piano Di prima Vediamo se riusciamo Stavolta A prenderlo No Non ce l'ho fatta Voglio riprovare Ok Ci siamo di nuovo Vediamo se stavolta riusciamo No Non riesco neanche a cliccarci Mi sa Ok Così si Vabbè Lasciamo stare Non ce l'abbiamo fatta Forse siamo troppo veloci Per prendere il latte Torniamo giù E mi serve altri tre pezzi di grano Che dovrò prendere anche così Allora Ho già un uovo nell'inventario Non so il motivo E altre uova Forse ce ne sono Da qualche parte Non ho uova Veramente non ho uova Devo andare Da qualche parte A raccogliere delle uova Ok Io ho una farm di polli In quel punto E anche uno dall'altra parte Ma lì Dovrei andare dietro Vediamo se qua Ci sono delle uova Se riusciamo a coglierle No È tutto pieno Ok Via 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 Riesco ad arrivare delle uova No Perché non ce ne sono Non c'ho neanche dei polli Nel recinto Ah si qua Eccoli qua Perfetto Perfetto C'ho un po' di polli qua E mi basta giusto Un uovo Ok Raccolto Ok Abbiamo due uova Possiamo fare la nostra torta Ecco ne ho preso anche un altro Mentre stavo camminando Adesso E mi serve dello zucchero Che abbiamo qui Uno due E anzi l'uovo Me ne serviva solo uno Non so perché sono andato a prendere due uova Me ne bastava uno Tre secchi invece Qua sopra In questo modo E tre di wheat Cosa sto facendo Così E l'ultimo Qua E qua Perfetto La torta è fatta E mi dai secchi vuoti Ah ok Achievement Delay E mettiamola qua in alto Così quando scaricherete il mondo Potrete mangiarla anche voi Con questa torta E un altro achievement È fatto Quindi la torta Dov'è che era Qua in alto Ok fatta Ci manca veramente poco Questo cos'è Overkill Required enchanter Ok Required diamond Ok se ne mancano questi qua Intanto vado in miniera E cerco dei diamanti Mi faccio un piccone di ferro Con tre pezzi di ferro così E lo prenderemo con quel piccone lì Il nostro pezzo di diamante Spero sinceramente Di trovarne uno presto E di non dover scavare Tanto tempo Ma con haste Non dovrebbe essere difficile Quindi Vado un po' in miniera E vi faccio sapere Appena trovo un diamante Ah tra poco E per chi non avesse mai visto Le mie miniere Eccole qua Questa è tutta la mia miniera Perché avendo haste Io scavo veramente Molto molto velocemente E siamo a livello 11-12 Quindi abbiamo la possibilità Di trovare anche tanti diamanti Adesso vediamo di andare Avanti da questa parte E inizio a scavare Ancora un po' Così Tipo vedete che sono velocissimo E ho già trovato Della redstone Perfetto E così dovrei trovare In fretta anche i diamanti O almeno lo spero Eccoli qua Non ci credo ragazzi Li ho già trovati Mamma mia Che fortuna Ok vediamo se ci da l'achievement Intanto faccio un po' di luce E ho scavato veramente pochissimo Non vi taglio neanche la scena Perché li ho trovati subito qua Perfetto Perfetto Allora ne prendo uno così Ok Perfetto Diamonds Achievement get E gli altri li prendo con fortuna No Questo è silk touch Vabbè Li prendiamo con silk touch Poi andremo a usare fortuna 3 Ok Ma in realtà mi sa che potevo fare anche Una cosa del genere Tipo avevo già sopra dei picconi Cioè Degli ordi diamante E potevo romperli direttamente Con questo piccone Vabbè Non ci ho pensato Ma siamo stati fortunati Li abbiamo trovati subito Qua ho visto uno slime Dove è sparito lo slime? È dispunato? Ok Vabbè Un altro achievement fatto Torniamo su E vediamo quanti ce ne mancano adesso Vediamo di tornare sopra Così Ok No Ok Mamma mia Ho rischiato di morire Torniamo su Ok È esploso un creeper Sono rimasto con mezzo cuore Ok Scampato anche un altro pericolo Intanto fuori è giorno Spero che non ci siano altri creeper assassini E creeper ninja Che mi uccidano Il fatto che rimango con mezzo cuore Sempre non mi piace tanto Cosa ho qua? Non ho blast protection Sì ce l'ho solo su l'elmetto E contro i creeper non è buono Il fatto che tengo sempre l'elitra Con I believe I can fly Ok E non ho la pettorina Quindi subisco un po' più danno Ma Siamo arrivati in alto E vediamo un altro po' Gli achievement che ci mancano Allora Questo qua l'abbiamo fatto Adesso possiamo fare Throw diamonds at another player Che possiamo fare con lo zombie E qua cos'è? Build a nether portal Ok Benissimo Possiamo farlo anche questo Enchanter Dobbiamo costruire un enchanting table Ma Strano Tutti questi obiettivi in realtà li abbiamo già fatti Boh Si sono risettati tutti Ma facciamo subito l'enchanting table Che se non sbaglio si fa con l'ossidiana Allora Ne ho un po' Sì Devo mettere l'ossidiana in questo modo Se non sbaglio Un diamante che ce l'ho E dei libri Che dovrei avere qua nella cassa Degli enchant Forse Vediamo un po' se sono qua Ok ce li ho Dei libri Me ne servono due O uno Ah no Un libro e due diamanti Mi sa Mettiamo i diamanti qua Ne prendo un altro E vediamo se mi ricordo bene Se si fa così Allora Dovrebbe essere così Due diamanti qua E sopra il libro Perfetto Enchant in table fatto Achievement Acquistato Mettiamola qua Anche questa Per adesso E rimettiamo dentro La nostra shulker box Quindi enchant Er fatto E l'altro cos'era Ah ok Doviamo cercare uno zombie Ma se è giorno Non ce ne saranno Vediamo un po' Quanto manca alla notte E appena l'alba Ok Mi tengo un diamante nell'inventario La prossima volta che usciamo Magari sia notte Lo lancio allo zombie Ed è come se l'avessi lanciato A un giocatore E lui lo raccoglie Io lo uccido Lo riprendo E mi dovrebbe dare l'achievement Quello di prendere un diamante A un giocatore Se c'è non mi ricordo No c'è solo questo Che dobbiamo lanciarlo A un altro giocatore Quindi con lo zombie Possiamo farlo benissimo Build a nether portal Possiamo farlo benissimo Build some bookshelf To improve your enchantment table Possiamo farlo anche questo Deal 9 heart of damage In a single hit Quindi 9 cuori Sono 18 punti vita Quindi questa spada Quanto ce ne fa? Ce ne fa 10 attack damage Più 1,6 Ah beh speed Quindi dobbiamo fare un critical Con questa spada Dovrebbe fare danno Se non sbaglio Questa c'ha Sharpness Ma non c'ha Altri incantamenti Potrei fare una cosa del genere Potrei modificare il beacon Per farci avere strength Cioè forza E in questo modo Riusciamo a fare più danno ai mob Ok mi prendo quindi Anche il diamante Per il zombie Mi prendo un pezzo di ferro Anche 2 o 3 Per modificare la potenza del beacon Cioè il potenziamento Intanto cos'è che potevo fare? Una bookshelf Che faccio subito Dovrei avere anche dei libri Qua se non sbaglio Infatti 3 libri E del legno Prendiamolo da qui Ok E facciamoci i nostri libri In questo modo qua Anzi la nostra libreria Ok Perfetto Così Ok fatto Librarian Perfetto Achievement fatto Bookshelf E questa bookshelf la lasciamo Non lo so dove metterla La mettiamo qua Ok Quindi Achievement quasi completati tutti Ci manca il portale del nether Che faccio subito E poi quello delle rotaie Ma dovrò craftarmela Quindi prendo dell'ossidiana 10 pezzi Mi dovrebbero bastare E facciamo un portale Oh c'è scritto di accendere un portale Perché se c'è scritto di accenderlo Possiamo fare Build a nether portal To the nether E c'è scritto Build a nether portal E poi c'è anche Andare nel nether Infatti c'è Into the fire Cosa sono questi? End Ok Non li avevo neanche visti questi qua Quindi dobbiamo fare Un nether portal Prendo l'accendino Che dovrei avere qua Da qualche parte Sì perfetto E quasi quasi rompo Il nostro portale Che abbiamo già E lo rifaccio Funziona se faccio una cosa del genere Non sono sicuro Ma ci provo Ok Ecco c'è il nostro portale Vediamo di romperlo E di rifarlo Apriti Rompiamo la stringa Così non si attiva Si attiva Sì si attiva Quindi rimettiamola così Si dovrebbe spegnere Spegniti portale No Ok Spegniamola noi così Ok E in teoria Se rompo questo Non dovrei fare niente Di danni Ok Perfetto Se faccio semplicemente così E lo accendo con l'accendino Succede qualcosa? No 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 E se vado così? Vediamo un po' se cambia qualcosa Se l'ho acceso io Il portale Si mette l'achievement Sì Ok We need to go deeper Me l'ha dato Non so perché si è resettato Magari perché nel nether Ci sono andato più volte Ma adesso me l'ha dato l'achievement Quindi perfetto Torniamo indietro Cosa abbiamo fatto? Ok Sì Ho fatto via queste cose Ok Vediamo se ci sono ghasts in giro Sento un pigman zombie Ok Lì vedo un blades Ok Ci andiamo da questa parte Vorrei provare anche a volare nel nether Che non ho mai fatto Perché è veramente rischioso volare nel nether Ok Andiamo lì un attimo Dov'è? X6 Vieni qua Ok No 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 Non andare giù Vieni da questa parte Che devo prenderti una blade road Ok Vieni Non si vuole avvicinare Ci nascondiamo così So che c'è uno spawner dall'altra parte Quasi quasi vado a quello Proviamo a volare nel nether Io ci provo Vediamo un po' se va male O ci salviamo Ok Perfetto Niente di che Ok Non è stato difficile Ma è sempre rischioso Qua c'è lo spawner Ma il fatto è che È proprio uno spawner Io lo attiverei Anzi dovrebbe essere già attivo Vediamo se ne spawna qualcuno Perfetto Ne sono scolati tre Adesso andiamo giù Ad ucciderli Questa è la mia farm di blaze Fatta a forma di imbuto Che convoglie tutti i mob In questo punto Quindi uccidiamoli C'è anche un sistema Per indebolirli C'è intanto la musica Un po' alta Mettiamola tipo a 30 Ok Vediamo se Ci dà l'achievement Forse non ce lo dà Perché c'è l'hopper Che prende le cose Allora togliamo un attimo l'hopper E li uccido io a mano Così Ok Perfetto Fatto Adesso rimettiamo l'hopper Qua dietro In questo modo Oh mio dio Mettiamo l'hopper Così E rimettiamo Questi blocchi Qua Ok Questo è comunque il sistema Per indebolirli Basta tirare questo bottone Così non ne arrivano altri E poi premere questo Che gli soffoca Fino alla Fino al punto giusto E così Poi li possiamo uccidere Con un solo colpo Allora Fatto l'achievement Del blaze Dov'è che è Eccolo qua Poi abbiamo Locate the end Ah si sono anche qua sotto Ma 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 si stanno sbloccando Man mano Cioè non c'erano prima questi qua O sbaglio Vabbè in teoria queste cose Le abbiamo già fatte però Perché le end le abbiamo già esplorato Il beacon ce le abbiamo già Facciamo questa cosa di ritornare La palla di ghast Al ghast E questo Brew a potion Anche questo l'abbiamo già fatto Ma magari non In fila O comunque non erano sbloccati Adesso faccio una cosa Mangio innanzitutto Lì c'è un Wither Skeleton Ce ne sono ben due Quasi quasi li ucciderei anche Vediamo se siamo fortunati Durante la registrazione Ok Vieni vieni di qua Che non voglio attaccare Pigment Zombie Anzi vieni da questa parte Ok E vediamo un po' Uno Dove è l'altro Due Niente L'altro l'ho perso Si è buttato da qualche parte Vabbè non c'è più Allora intanto cerco un ghast E vediamo se riesco a trovarlo E rimandare la sua palla Indietro La Fire Charge Ok Stiamo volando Vediamo un po' Di trovare dei ghast Da questa parte Che bello volare così vicino Alle fonti di lava E non avere paura di cadere Anzi spero che il mio Elytra Non sia consumato Si ok Elytra Devo imparare a dirlo giusto Dico sempre Elytra Comunque non vedo ghast Mi allontano ancora un po' In questa zona Ok Scendiamo Ecco qua Ne ho sentito uno Dov'è che è? Perfetto Quindi mi metto in questo punto qua Tipo vicino E vediamo se riesco a tornargli Una palla di ghast Così Oh mio dio Non ci credo Al primo tentativo Ce l'abbiamo fatta Ok Sta andando veramente tutto Di fortuna oggi Tra diamanti E palla di ghast Al primo tentativo Abbiamo già fatto Un bel po' Di achievement Torno qua La nostra base No Non rischiare di cadere Nella lava Perfetto Ok Così era questo Un blaze Torniamo dentro Abbiamo fatto le cose del nether Vediamo un po' Questa fatta Questa fatta Doviamo trovare l'end Ma l'abbiamo già fatto Due volte Anzi Trovare Cioè Prendere l'uovo di drago Che purtroppo non ce l'ho Perché l'ho perso E ci avete fatto anche dei meme Su teleground Di questa cosa Molto divertenti E dobbiamo fare una brewing stand E fare quell'achievement Del overkill E del diamante Facciamo subito Quella del diamante Se riusciamo E se è notte Soprattutto Ok Ci siamo Vediamo un po' No È giorno Quindi dovrò aspettare la notte Anzi si sta per fare notte quasi Quindi aspetto un attimo la notte E facciamo questi due achievement Oppure Aspetto in questo punto Cambio il potenziamento Di questo beacon qua In strength Vediamo se riusciamo a farlo Ok Dove strength Strength 2 E mettiamoci un lingotto Così dovrei fare più danni in teoria Vediamo un po' Sì Strength 2 E vediamo un po' Facciamo una prova con un cavallo Con un pollo Beh i polli li uccido lo stesso Tiriamo via questo Ok Uccido i polli con un pugno Bene Questo è già Cosa ci fai tu mucca qua? Anche le mucche li uccido con un colpo No Con due colpi riesco a uccidere le mucche E con un colpo Un pollo Quanta vita ha il pollo? Non mi ricordo Forse 4 cuori? O 3 cuori? Quindi 6 punti vita? Vediamo un po' Se riusciamo a fare questa cosa Con un mob Aspettiamo la notte E ci risentiamo tra poco Ok Il sole sta tramontando Quindi è quasi notte Aspettiamo un po' Di zombie E scheletri Vediamo se riusciamo A ucciderli Soprattutto con un colpo O comunque Fargli quei 9 cuori Quanto era? Allora Vediamo un po' Sì 9 cuori di danno In un singolo colpo Vediamo se ce la facciamo Non vedo mob Nelle vicinanze Intanto Ci conviene magari Volare un attimo E poi ritornare in questo punto Quello cos'è? Un cavallo Ok Voliamo abbastanza in alto Così da caricare solo questa zona sotto di noi E tornare in questo punto Vedete che c'è già un creeper E tanti zombie Ok Vediamo di uccidere questo scheletro qua Con un colpo No non ce l'ho fatta Quindi dobbiamo fargli un critico Se non sbaglio Allora in un singolo colpo Ok vabbè È morto Vediamo se riusciamo con Un creeper Lì ci sono gli zombie Che voglio tenerli per l'altra cosa Ok No non ce l'ho fatta neanche così Neanche col critico Sono riuscito a fargli danno Va bene E come dovrei fare allora A fargli 9 cuori di danno Con un singolo colpo Dove sono spariti gli zombie intanto Eccoli qua Sono andati alla farm Allora Prendiamo un diamante Vieni qua zombie Che ti do un diamante Ok Intanto uccidiamo il ragno Che non lo voglio tra i piedi Perfetto Ok vieni qua zombie Che ti do un diamante qui Perfetto Raccoglilo No raccogli il diamante Vieni nel diamante Non vuoi raccogliere il diamante Zombie Prende il diamante No Ok Vediamo se c'è dei blocchi Per incastrarlo In qualche modo Saliamo un attimo su Ok Adesso devi prendere per forza Il diamante Raccoglilo E va a vedere gli zombie Guarda lì c'è un diamante Perfetto Fatto ragazzi Vedete che ha preso Il diamante in mano E abbiamo completato l'obiettivo Adesso devo solo ucciderlo così E fatto anche overkill ragazzi Ce l'abbiamo fatta Con il critico Perché stavamo saltando E stavamo scendendo dal salto Facciamo un colpo critico E abbiamo fatto entrambi gli obiettivi Oh mio dio Guardate un tanto qua Gli achievement Che abbiamo fatto Ok muori anche te Così Perfetto E possiamo anche andare a dormire Perché altri obiettivi notturni Non ne abbiamo E ci manca quello del minecart Adesso faccio tanti minecart Tante rotaie E vediamo di fare anche Il chilometro consecutivo Se riusciamo Ok Da che sono qua Faccio anche l'altro achievement Della pozione E non so che pozione Esca con la carota d'oro Ma ce la metto lo stesso dentro Vediamo un po' se funziona Ok Ok E vediamo se riusciamo a fare La pozione E completare quindi anche Questo achievement qua E poi vediamo di farci Le rotaie Vediamo un po' se esce la pozione Ci siamo quasi Ok Fatto E se la prendiamo Perfetto Fatto anche questo Questo achievement qua Ok Uscita la Night vision intanto Vabbè abbiamo una night vision Che può essere comoda Quindi fatto anche Con lo stesso qua Delle pozioni Si Ok Taken Un chilometro di rotaie Va bene Mi sa che sono mille blocchi Perché ogni blocco è un metro Quindi mille metri un chilometro E mille blocchi Sono tipo Mille rotaie Quindi circa 14-15 stack di rotaie Una cosa diciamo Un po' Improponibile Allora faccio una cosa Voglio verificare Se facendo un loop infinito Funziona o meno Questa cosa Quindi lo provo subito E poi sto sopra A questo sistema qua E vediamo se Mi fa fare l'obiettivo Intanto butto un po' di cose Che non mi servono La stone Posso anche buttarla qua Ma ce ne ho già tanta Allora buttiamo tutto Faccio un minimo di rotaie Già in questa zona Tipo così Ok 1, 2, 3 Così 1, 2, 3, 4 Così E poi torniamo indietro Da questa parte E vediamo se ci da Gli achievement Già in questo modo Ok Ho finito queste normali Mettiamo queste Ok Fatto Prendiamo le nostre leve Ne ho prese una in meno Ok Mettiamola qua Questa leva Cos'è? La posso utilizzare per il momento? Grazie Vabbè Mi servirà comunque Per aprire la bocca Questa qua Quindi devo tornare A prendere il minecart E prendo anche una leva Ok Leva presa Minecart Ce ne sono Da qualche parte No Ok Mi creato un minecart Fatto anche il minecart E vediamo se questa cosa Funziona O il gioco È intelligente Non ce lo fa fare Aspetto qui E vediamo se tutto va Ok ragazzi Rieccomi È passata mezz'ora Dall'ultima clip Infatti avevo fatto Uno screenshot per ricordarmi Ma non mi ha dato L'achievement Infatti l'ultimo È quello della Brewing Stand Ma facendo una cosa del genere Purtroppo non dà l'achievement Ci abbiamo provato Ma niente da fare Quindi ci manca anche Questo achievement Da fare delle rotaglie E in più Quello della noce apple Che non abbiamo E questi qua Che in teoria Abbiamo già fatto Sia land Che questo qua Non so Ah questo quando Andiamo nel land Ok perfetto Prendiamo l'uovo di drago Uccidiamo il wither Facciamo una nether Anzi prende qua Mi sa che è quello Che prendiamo la testa Questo quando abbiamo La nether star Quindi abbiamo ucciso il wither E qua facciamo il beacon Che in realtà Tutti questi achievement Li abbiamo già fatti Sappiamo tutti come è fatto Minecraft Che a volte Resetta tutti gli achievement Però fare quelli Che non li avevamo ancora fatti È stato più che divertente Devo dire E non vedo l'ora Di vedere i nuovi advancement Che potrebbero essere Veramente degli obiettivi Di gioco Dato che questo gioco È un gioco privo di obiettivi Principalmente Dato che li abbiamo fatti Una volta tutti Non ha tante cose Che si possono fare Poi naturalmente È infinito Perché le possibilità Che si possono fare E le cose che si possono fare Sono tantissime Però avere degli obiettivi Come gli advancement E gli achievement È ottima Secondo me come cosa E solo con queste cose Siamo riusciti a ottenere Un episodio Veramente molto molto lungo Non pensavo di impiegarci Così tanto a fare Queste cose qua Ma si sta allungando Abbastanza questo episodio Quindi direi che può finire qui E in descrizione Vi ricordo che trovate Il download della mappa Così potete entrare E vedere le costruzioni Anche voi E questo episodio Direi che quindi Può finire qui Come sempre vi invito A lasciare un bel mi piace Se vi è piaciuto Commentate Dandomi consigli Per questa serie qua Io come sempre Sono su RIV Ciao a tutti